Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò una tecnica davvero insolita e particolare, ma vi assicuro molto efficace e con dei risultati incredibili, che vi permetterà di ottenere delle giovani piantine di limone partendo addirittura da un piccolo pezzettino, quelli che si trovano attaccati ai limoni del supermercato, quindi praticamente a costo zero. E la cosa bella dell'esperimento è che si otterranno delle piantine che inizieranno a produrre fiori e frutti ottimi addirittura senza innesto. Quindi io vi consiglio di seguire il video, ma soprattutto rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. E la prima operazione sarà quella di creare la talea. La prima cosa che occorrerò fare sarà quella di procurarsi dei limoni, mi raccomando che vi piaccia la qualità perché poi le piantine che nasceranno faranno gli stessi limoni, che abbiano dei rametti attaccati. I rametti dovranno avere delle caratteristiche poche, ma sono davvero tassative, ovvero la prima che sia fresca e ve ne accorgerete dal fatto che le foglioline siano ancora in perfetta salute, proprio come questa qui, quindi che non siano secche e che abbiano un colore verde acceso, che la sua lunghezza sia compresa tra i 10 e i 15 centimetri almeno e che il diametro sia tra i 5 mm massimo 1 cm. Lui potrà essere utilizzato per andare avanti con l'esperimento, quindi basterà staccare il limone in questa maniera, il limone utilizzatelo quando più vi aggraderà, invece con questo poi andremo avanti e otterremo poi le piantine. Guardate la perfezione di queste foglioline e per vedere se comunque il rametto è fresco c'è anche un piccolo trucco, ovvero casomai con le dita andare a grattare leggermente la corteccia e se vedrete che proprio come in questo caso c'è un colore verde acceso, vivo, allora vorrà dire che lui è davvero perfetto per poter procedere con le operazioni. Se fosse secco invece non servirà andare avanti perché purtroppo il rametto non sarà più idoneo per poter procedere e per ottenere le piantine, quindi cambiate il rametto e provate con altro. Un consiglio che secondo me è davvero valido è quello di ripetere la stessa operazione più volte in modo che contemporaneamente avrete più esperimenti che andranno avanti, aumenterete così decisamente la possibilità poi di ottenere la piantina asperata. Quindi anche in questo caso staccare i limoni dal rametto, guardate un po', anche questa è assolutamente perfetta. Separati dai limoni questi sono alcuni dei rametti ottenuti, direi davvero un ottimo punto di partenza dal quale sperare poi di ottenere le giovani piantine, quindi foglie di un verde lucido e acceso e rametti vitali e rimpolpati, però così ancora non van bene, dovranno essere trasformate in vere e proprie talee. Trasformare un rametto in talea è davvero semplicissimo, la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di ridurre al minimo lo spreco che potrebbero avere le foglie, perché nell'ipotesi che poi il rametto crei realmente le radici alla base non riuscirà a sostenere la crescita dei nuovi germogli e il nutrimento delle foglie già esistenti, quindi un minimo andranno comunque tenute perché il rametto dovrà respirare, però su queste io ne terrei soltanto due, quindi via questa alla base, via questa che comunque è mezza rovinata e terrei soltanto queste due, ma queste ancora sono troppo grandi, quindi andranno ridotte come dimensioni, quindi semplicemente tagliandole a metà. E per farlo basterà procurarsi delle forbicine, mi raccomando sterilizzate prima di utilizzarle, casomai con un po' di ammoniaca o di alcol sulle lame, e tagliare le foglioline in questo modo. Tagliate le foglioline ed eliminate quelle in eccesso, questo è il risultato che si è ottenuto, però adesso bisognerà preparare la parte inferiore, quella che andrà proprio nel terreno, quindi prendere delle cesoie e andare a creare un taglio in diagonale rispetto all'asse del tronco, così. Quindi provo a mostrare più bene il taglio come dovrà essere fatto e via. Trucco della fogliolina di aloe. Al fine di aumentare la possibilità che le talee producano per davvero radici, c'è un piccolo trucco, ovvero quello di utilizzare gli ormoni radicanti, esistono quelli chimici e quelli naturali. Non è indispensabile utilizzarli, però se potete fatelo perché aumenterà davvero tantissimo la possibilità di successo dell'esperimento. In natura ne esiste uno che praticamente a costo zero io considero fenomenale, ovvero il gel che si trova all'interno delle foglioline delle piante di aloe. Separata dalla pianta madre questa è la fogliolina che si è ottenuta, adesso lei dovrà però essere sezionata in piccoli pezzettini lunghi circa 10 centimetri e considerando che questa ha una lunghezza di circa 30, da lei ne potremmo ricavare addirittura tre, col quale fare contemporaneamente volendo tre esperimenti e quindi tre tentativi di ottenere le giovani piantine contemporaneamente. Prendere un coltello, mi raccomando sterilizzate anche in questo caso le lame, andare a tagliare partendo dall'alto circa 10 centimetri, taglio netto in orizzontale e via. Ed ecco qua. Quindi primo pezzettino lungo circa 10 centimetri ricavato e ripetere la stessa operazione anche con questo sezionandolo a metà. Ed ecco qua il risultato. Sarà proprio questa parte gelatinosa che toccandola insomma è bagnata ed eviscida che farà da radicante, passatemi il termine proprio ormoni radicanti, che aiuteranno e favoriranno poi la formazione delle radici nel rametto. Arrivati a questo punto si potrà prendere il pezzettino della fogliolina di aloe ed andare ad inserirlo all'interno della polpa. Però prima di farlo per fare in modo che poi effettivamente il rametto recepisca tutti i benefici della polpa di aloe allora a quel punto occorrerà fare ancora un'altra operazione ovvero quella di creare dei piccoli tagli nella corteccia del tronco. Quindi prendere un coltello, io in questo caso sto utilizzando un coltello di quelli che si usa per innesto ed andare a grattare letteralmente la parte inferiore della talea nella corteccia in modo che si crei una parte viva. Le dimensioni di queste incisioni dovranno essere di circa 2-3 mm dopodiché ruotare la talea, lasciare 2-3 mm di parte intatta e continuare a rigrattare. Quindi ci sarà un'alternanza tra parte viva, quindi quella che avete appena grattato, e corteccia integra di circa 2-3 mm per ogni intervallo. Create le parti vive, questo è ciò che dovreste ottenere o comunque un qualcosa di molto simile. Quindi arrivati a questo punto, prendere la fogliolina di aloe e la talea ed unirle, spingendo letteralmente la talea all'interno del centro della fogliolina, dove c'è il gel per intenderci, e spingere fino a che la talea non sarà ricoperta dalla fogliolina per almeno 4-5 cm all'interno dello stesso gel. Alla fine dell'operazione questo è il risultato che si è ottenuto, quindi si potrà procedere con l'operazione successiva, ovvero quella di mettere il tutto all'interno di un vasetto con del terreno. Prendetene uno che abbia un'altezza almeno pari, se non superiore, al pezzettino di aloe che avete deciso di utilizzare, con un diametro di circa 10 cm. Dopodiché andare ad inserire del terreno, possibilmente leggermente acido, sul fondo. Ne passeranno circa 2-3 cm, in modo da fare un letto dove andare poi a posizionare il tutto. Quindi prendere ed inserire ciò che abbiamo preparato precedentemente all'interno del vaso, così. Considerate che poi quando andremo a mettere l'altra terra, dovrà coprire tutto, anche l'aloe. Quindi dovrà coprire completamente il pezzettino di aloe che farà da radicante e anche terrà umido costantemente il rametto che abbiamo creato. E continuare ad inserire la terra all'interno del vasetto, sino a che la stessa non avrà completamente ricoperto la fogliolina di aloe. Man mano che inserirete la terra all'interno del vaso, mi raccomando, rinzaffate e pressate leggermente il tutto, in modo che non ci siano spazi all'interno del vaso. Bagnare il tutto molto abbondantemente, facendo in modo che la prima volta il terreno sia davvero zuppo di acqua, dopodiché le volte successive occorrerà soltanto assicurarsi che il terreno resti solo leggermente umido. Secondo trucco Nell'ipotesi che vogliate accelerare e soprattutto favorire la nascita della piantina nuova, esiste un trucco, ovvero quello di creare una mini serra, anche semplicemente con la parte superiore di una bottiglia, alta più o meno 20 cm, mettendola sopra, in questo modo. Così facendo, all'interno, si creerà un vero e proprio microclima, con temperatura ma soprattutto umidità costante. E vi assicuro che questo sarà davvero un toccasana per la pianta e per quello che poi si svilupperà. Primi risultati dell'esperimento Il bello dell'esperimento è che si potrà utilizzare un rametto qualsiasi della pianta, quindi ho preso dai limoni che si comprano al supermercato, semplicemente tagliandolo da una pianta madre. Il risultato sarà praticamente identico. E adesso io vi mostro il processo e come si svilupperà una talea una volta messa all'interno del terreno a distanza di circa un annetto, da quando è iniziato l'esperimento. Proprio per mostrarvi come si sviluppino le radici nelle talee, la tirerò fuori dal vasetto. Ovviamente questa è un'operazione che voi non dovrete fare, io lo faccio solo per mostrarvi come si sviluppino le radici, quindi semplicemente tirar via il vasetto ed aprire. Guardate, già sotto ci sono delle radici che direi assolutamente importanti, quindi semplicemente facendo molto piano e tirando via il terreno potremo andare a vedere come ma soprattutto dove si siano sviluppate le radici. E questo è ciò che ha fatto nascere la talea. Provo a sciacquare le radici nell'acqua proprio per mostrarvi meglio l'apparato radicale e come si sia sviluppato. Eccolo qua. Questo è il risultato. Ci sono davvero tantissime radici alla base della talea. Quindi nascono nel punto di taglio alla base, proprio sotto dove è avvenuto il taglio, quindi nella parte viva, ma anche nel tronco, sempre nella parte basale però. Eccolo qui. Spero che si riesca a capire. Le radici ne ha fatte davvero tantissime. Trascorsi due anni questo è ciò che si è ottenuto, quindi cambiando il vaso in modo che poi le radici si potessero sviluppare meglio, guardate un po' come loro effettivamente si siano sviluppate. Sono davvero incredibili. Ce ne sono tantissime, sia sotto che sopra. Ovviamente qui occorrerà poi coprire tutto con la terra. Io l'ho tolta solo per farvi vedere come effettivamente le radici si siano sviluppate. Questo è il rametto iniziale dal quale è partito tutto. Qui il primo germoglio che ha creato il rametto. E da questo un secondo germoglio che ha fatto sviluppare la piantina vera e propria. Quindi non resterà davvero altro che aspettare che questa inizia a produrre i primi fiori e di conseguenza i primi frutti è il bello che lo farà senza la necessità di innesto. E considerate che i limoni che nasceranno saranno identici a quelli della pianta madre, quindi o quelli dal quale avete prelevato appunto dal limone il rametto o il rametto che avete proprio tagliato dalla pianta. Perché ricordate che questo non è nient'altro che un vero e proprio clone genetico della pianta dal quale è stato prelevato il rametto. direi è un risultato davvero ottimo. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo. E se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete dategli anche un'occhiata.